Buonasera cari pixellini e benvenuti bentornati su Forager ragazzi Ho appena migliorato la mia cara amica Showel E siamo pronti, siamo qua subito per fare, sapete cosa? 30 di questi Perché io voglio fare, oggi la prima cosa che voglio fare è un bellissimo windmill Che mi serve un sacco di wood, un sacco di brick e un sacco di pit Come cavolo si pronuncia, il wood ce l'abbiamo quasi Ragazzi io premo tasti a caso come al solito, bisogna fare anche un pochettino di legno Ragazzi questo giochino che è veramente secondo me carino, mi piace un sacco Lo trovo molto apprezzabile, voi che me ne dite fatelo sapere qua sotto nei commenti se vi piace questo giochino Io non lo so, è un mix tra Stardew Valley, è un mix tra... Ehi, te cosa vuoi fare? Ecco, te, becati questo che è quello che ti serve Un mix tra Stardew Valley, stavo dicendo, Minecraft eccetera E oh no, è stanchissimo ragazzi, io non so ancora che succeda quando... Qui è troppo stanco che muore, però non lo voglio... Sta facendo cose, sta facendo cose e ha fatto cose che non doveva fare E ragazzi... Oh no, l'ho messo in francese! Per fortuna, lui fa cose, perché io cambio i tasti, però ovviamente non mi ricordo poi i tasti che seleziono Quindi tipo, è un casino Allora, qui la lana non la possiamo ancora fare, perché non la possiamo ancora fare, però... Ci possiamo mettere qui e andare a prepararci, come stavo dicendo, per il windmill Ci mancano ancora 4 di legno ragazzi, 4 di legno, quindi che facciamo? Siamo qui a briccolangiare? No! Non è ora ci siamo con il legno, ma nel dubbio io ne farei un pochettino di più Perché il legno è importante e il legno ci sarebbe praticamente perduto Nell'ultima puntata abbiamo trovato una nuova isoletta, o meglio, due nuove isolette Mamma, mamma, mamma In una abbiamo trovato le galline ragazzi, abbiamo trovato le galline Abbiamo trovato anche un mostriciato che abbiamo ucciso E che non mi sembra che stia rispuntando E, 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 è provato La gallina sta morendo Volevo farti male giù No, mi te lo vedo, quindi Io ho ucciso un mostriciattolo che mi ha dato una di leather di pelle di cose Non mi sembra che stia tornando in vita, quindi Cosa? Perché non capisco se Tornerà in vita prima Ah! Eccolo lì! Ragazzi è tornato, è tornato, è tornato Oh! Abbiamo ucciso la mucca La mucca ci dà un sacco di pelle Ragazzi, io vado qua Mi dà la pelle La pelle che purtroppo c'è È bellissima Ci servirà Tanta di questa Tanta di questa Per fare lo Il medium backpack Che ci servirà appunto Per fare le cose nuove Ma ragazzi Io direi che siamo quasi pronti Anzi Siamo pronti Per fare windmill Andiamo a distruggere questo Per metterci qua Il nostro caro amico windmill Vieni qua Eccoci qua Buildiamo farming windmill Ah! Eccoci Oh la la papeppa Ah! Che bello Questa cosa qua ci permette di fare Un sacco di cose Lui voleva i sapling del tree E noi gli diamo un sacco di sapling del tree Oh! Ci vuole il citrus Va bene Diamogli tutti Il nostro caro amico qua Della puntata precedente Lui voleva Trenta ne voleva Quindi ora io mi metterò qua Tagliare legna per tre ore Finché non ho tutto Sapling Ah frape Ragazzi Eccoci qua Abbiamo preso tutti i sapling Che ci servivano Qua c'è un casino Un sacco di gente Un sacco di cose Eccoci qua Grazie tante Oh! Ha salvato la foresta Da queste Questi ragazzi Con la picca Ma Per aver fatto Il sapling Ha fatto la picca Penso E la madosca Ci ha dato delle cose Ci ha dato Che però non apriremo Perché insomma Pieno come un uovo Pieno come un uovo ragazzi Pieno come un uovo Non saprei più come fare Per ingrandirmi Oh! È tornata la cosa È tornata questa Oh! Ho dato un altro po' di pelle Ragazzi Possiamo fare un altro po' di pelle Una sola Una sola Non c'è se aveva un 4 Capite la gravità 4 ci servono 4 4 Cioè Vi rendete conto del numero 4 Dove per 4 vuol dire 4 Vuol dire tipo una marea Ma proprio una marea Ci sono degli slimy Che stanno continuando Ad attaccare dovunque Io continuo a prendere cose Uh! Ragazzi Aspetta Aspettate Questa ci ha dato Un po' di pelle Che se non erro Ho raccolto Quella sì Ce ne mancano altre due Ok? Ce ne mancano altre due E qui Non so come fare A prenderla Perché Non ho proprio Spazio di far nulla Sono pieno come un ovetto E ragazzi Direi che possiamo Concludere questa puntata In bellezza Sapete come? A parte il fatto che io Non catturo più niente Non prendo più niente Perché Non so dove mettere le cose Cioè ok Sì posso prendere questo ferro E dove vai Il figlio della mea Eccoci qua Uh! Ragazzi Abbiamo preso un sacco di jellyberry Jelly 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 E ragazzi Non ho visto Che altro puoi fare Possiamo fare il Seme del cotone Il cotone Seme di grano Ragazzi Molto interessante Quindi il peperoncino Della zucca Ma già gli animali Ok La farina Ragazzi Io non so Fare lo zucchero Ragazzi E Il foglionaggio Direi che però Per ora faremo 14 di grano Così Uno ci liberiamo Non ci Non ci liberiamo L'inventario Però almeno Siamo un pochettino Più bravi Con questi qua Poi con la nostra Cara amica Pala Ci mettiamo qui Ragazzi Io ho migliorato La pala Amadosca L'amadosca Ragazzi Mamma Mamma Io Non ho spazio Ragazzi Non provare Assolutamente Questa cosa E come facciamo A provare Questa cosa Dovremmo Qualcosa Ma Non A distruggere Niente di Distruttibile Molto Molto male Vediamo un po' Possiamo farne 4 E li facciamo tutti Così che ci dovrebbe rimanere uno solo di questi che butteremo via Adesso tenendo premuto lo possiamo buttare via Ci prendiamo questi e andiamo qui Ragazzi Sì lo so che vorresti l'acqua Per fare l'acqua ragazzi dobbiamo andare qui e fare su farming Fare lo sprinkler E mettiamo uno Non so come Come prenda lo sprinkler E Non so bene Io presumo che faccia 1 2 3 4 Quindi questo fa 1 Lo so Cazzi Non lo so Lo scopriremo insieme Mamma Mamma Mau E non cresce Cos'è Salve gallinella Mi dà lo vetto Grazie Oh Molto interessante Io non voglio le gallinelle Non voglio questa cosa qua Dammi altri Altri questi Sono ovviamente pieno Come al solito E io sono sempre pieno Ragazzi Dovevo fare assolutamente Un qualcosa Per l'inventario Ma non saprei Come caparmela In questo momento Il oro Ma solo perché voglio Prendere questi Un sacco di questi E comunque anche senza lo sprinkler Cioè ci mette veramente poco A crescere Dai guardate qua E' già pronto Poi ho fatto grano Ma ci faccio con grano A parte la farina Non è che me lo mangio Grano Oh si Non me lo mangio Quindi Il grano A questo punto Mi servirà Per fare la farina E la farina La faccio qui dentro Ma la farina Non posso ancora fare E non so Capisco Uh posso migliorare Questo Questo Non possiamo ancora farlo E neanche questo Molto Molto Vediamo un po' Se qui possiamo fare qualcosa di buono Tipo Tutti questi La pelle Qua non la possiamo ancora fare Quindi Un pochettino Trisolo Mamma Mamma Mau Questo qui come al solito Lo buttiamo Perché ragazzi Qua ci serve Anche questi I tree sapling Io non so cosa farmene Dei tree sapling Attualmente Quindi penso che Li butterò via Qualcosa migliore da fare E aspettate Aspettate Che qua c'è un mostro Oh no 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 Non ho la picca Ecco qua Molto molto meglio Lui vuole parlare Con noi di nuovo Vuole sempre parlare con noi Hello friend Eh Giolatina Non mi far male Sì Ho una Ho una quest finale Ok d'accordo Una quest finale Vuole un raro Come la trovo L'uovo di dinosauro Ragazzi Sì ma non so come trovare L'uovo di dinosauro Cioè c'è un Vieni qua Devo trovare L'uovo di dinosauro Tipo Ok Va bene Ma non benissimo Insomma Bene ma Spero non bene Non la trovo Ragazzi Voi sapete dove sono Le uova di dinosauro Io Non ne ho la più pari L'idea Se sapete dove sono Le uova di dinosauro Vi serve altro Che fammelo sapere Qua sotto nei commenti Mentre io Continuo a scavare Un pochettino Qui perché Uh Cose Tante E ancora altre cose Altre cose ragazzi Altre cose Ancora due qui E così almeno Ci becchiamo L'ultimo qua Oh Questi no Ci abbiamo altre 4 Qua da Da mixare Quindi facciamo così Tac 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 E mettiamo l'ultimo Qui Perfetto Mamma mamma Ragazzi Io direi che Facciamo altri Coenini Perché io voglio Comprare Un altro Territorio Quindi Intanto Vediamo Che altro Possiamo fare Pucrot Qui Ci vuole un sacco Di brick Non ce l'abbiamo Lo faremo più avanti Qui ancora nulla Economia Ancora nulla Magia Ancora nulla Ma ragazzi Siamo cresciuti Ancora di uno Possiamo andare avanti Con una skill Sina Vediamo un po' Cosa possiamo Di cosa possiamo Skillare Allora Gli Spinas Che non so Che siano Quindi Li Lasciamoli Per ora Va bene Ma non benissimo I nemici Ragazzi Dropperebbero Oro D'accordo I Quanto per cento Più legna I Braziers Le Culture costano Di meno Questo è più Veloce Non saprei Cosa scegliere Sapete Non mi voglio I 50 cold Posso fare Le Cazafoti Non so Cosa siano Ragazzi Andiamo subitissimo A farle E vediamo un pochettino Cosa sono Le cazafoti Ci hanno sbloccato Anche le banche Ragazzi Usciamo di qua E andiamo A vedere Cosa sono Quindi dire che andiamo Andiamo No Non qui Ma su Economo O economia E che aspettiamo Facciamolo Mi serve Perché io Non guardo Le cose Dico sì Alla 3 di steel E Altri 4 di brichine Va bene Non Vuole niente Per farlo Va bene Quindi mi serve Un altro di steel Che non posso fare Perché non ho il goldone Va bene Andiamo a fare Il goldone E mi serve Un sacco di goldone E non ho goldoni E poi tutto pronto Mamma ma Prendiamo tutto questo Ma io in realtà Più di questo Vorrei Loro Loro Quindi andiamo a cercare l'oro Eccolo qua Oro 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 Dammi tutto L'oro Che tu hai Era una Una canzone Io l'ho storpiata Brutalmente E prendo anche un po' Abbiamo un altro Abbiamo un altro oro Qui ragazzi Io ho altro oro Intanto andiamo qui E Andiamo a fare Tutto l'oro Che hai Queen Uh Ci ha fatto malissimo Ci ha fatto Provato Provato Ma sa Che contro di noi Non c'è speranza Arrivare fino all'oro Dove ho messo tutto questo tempo Oro Vieni da me Vieni da me Vieni da me Vieni da me Oh questo era oro nascosto Interessante Ah Eccoci qua Abbiamo preso tutto l'oro Della mappa Perfetto Perfettissimo Sì Quello non ci sta Non ci sta Non ci sta Ragazzi Andiamo a fare Altro oro E Poi facciamo Finalmente E dico Finalmente Gli springler E ci deve essere anche un modo Per vendere queste cose Non l'ho ancora scoperto Ma Tutte queste cose Stiamo facendo Vendere Vendere Fare cose Eccetera Ora possiamo andare qui Ah già farò steel Lo steel e i bricks I bricks Allora Steel ce ne serve uno Quindi lo facciamo subito E ci togliamo Il pensiero Una volta fatto lo steel Ci serve il brick Per fare i brick Io non mi ricordo Cosa ci serve Credo ci serva D'accordo Ma perché Dovevo smettere Di uccidere le galline Le galline Mi servono Sono mie amiche Io le uccido Ma Cioè Sono mie amiche Cavolo Abbiamo fatto lo steel E ora Dobbiamo fare un sacco di brick Quanti brick ci servono Non ho mica visto Quasi fanno I brick Quindi c'è tipo Forse dovevo vederlo Allora Non ci serve ancora Non qui Ma qui Ci serve Ancora Tre brick Va bene Due brick Ancora Due brick Ragazzi Un bricchino Un bricchino I quali catturerei Anche queste Non ho lo spazio Alcune si C'ho lo spazio Però altre no Eccoci qua Ragazzi Possiamo andare qui Possiamo andare su economic E build Buildare la banca Io non so Quale serve alla banca E andiamo a metterla lì Andiamo a metterla lì ragazzi Permessico Permessico Scusate ma Io Sì sei esaurito Non sei esausto Sei esaurito Esaurito Più che esausto Oh Il gioco fa Qualche vuole Fa quello che vuole Come al solito Eccoci qua Siamo pronti Andiamo a buildare la banca E scoprire cosa serve Questa Cioè non banca Ragazzi scusate La cassaforte La cassaforte La cassaforte La roba che non ci serve Ragazzi voi non avete idea Voi non avete idea Posso fare più veloce così Ah col destro Move all Magari se Se leggevole Oh mamma Ma che Ma che cosa mi stai dicendo Ma è una svolta Pazzesca Posso rimettermi a A prendere tutte le cose A fare cose Mamma Mamma Mau E Ragazzi Possiamo concludere la puntata Andando ad aprire queste cose Direi che andremo a aprire queste nuove scatolette E vediamo che cosa ci si trova De Ragazzi Uh soldini Uh rubini Emeraldi Topazzi Siamo powerfulissimi Mi sono bloccato di nuovo E ragazzi Io mi blocco Ma ragazzi Direi che tutto questo Lo vedremo Nella prossima puntata No non voglio distruggere questo Mamma Mamma Mau I topazio Ragazzi Il topazio E a questo punto direi che Vediamo E ci mettiamo Ah ce n'era solo uno Però Anche l'altro abbiamo preso Le altre cose belle Dove sono Gli emeraldi Stiamo la carne Dice La possiamo mangiare Presumo E gli diamo Non è capito Ci siamo questi qua E direi che è una cosa Un pochettino Fatta meglio Ma ragazzi Tutto questo lo faremo Ad una presa puntata Di questo Fantastico gioco Ci vediamo su Forager Per un'altra puntata Io non ho capito Cosa O Qualcisi E riaspetto Però Nulla Nulla Di più Ma ragazzi Tutto questo Nella prossima puntata Io qua Bisognerà comprare Terreni No la compriamo Nella prossima puntata Direi che proceduto Ci viene la prossima puntata Tanto dire Fatto Il Bisgatto Mamma Se anche tu Come me Non puoi più vedere Di poveri Ippogrifi Incatenati Se anche tu Come me Non riesci più A sopportare Il maltrattamento Degli elfi Domestici Allora Iscriviti al canale Del pixel matto Potrai trovare Ricette Gameplay Notizie poteriane E molto altro ancora Cosa aspetti Iscriviti E attiva la campanella Per non perdere Nessun video Il fantastico mondo Di Harry Potter Ti aspetta Degli elfi